Gian Matteo Zambarda, capitano di una Massese a tutta cuore e tutta forza fisica, che ha ribaltato una partita difficilissima. Sfortunatamente, nelle due ultime settimane, con una sola azione da gol per partita, la Massese ha preso due reti. Oggi, per fortuna, però, è rientrato Giancouco e ha dato il suo contributo per ribaltare la gara. È un giocatore importante che ci ha mancato in questo arco di tempo, ma lo sapevamo. È venuto fuori il carattere della Massese, quella che ci piace, che combatte, che lotta su tutti i palloni. E soprattutto in una partita così difficile, contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato, andare sotto 1-0 al primo tempo, e stare lì, concentrati, perché non c'era niente di perduto. Ecco, siamo rimasti lì con la testa, infatti ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché non era assolutamente facile ribaltare una partita del genere. Infatti, penso che i meriti vadano a tutti, allo staff, ai giocatori, perché ci prendiamo veramente questa vittoria, che è fondamentale. Dall'alto abbiamo visto qualche errore di troppo di misura e anche, come posso dire, di controllo. Qualche cosa, magari, nel campo che vi ha un po' sfavorito? Il campo, sappiamo com'è, non è in ottime condizioni, ma di questo ne prendiamo sempre atto. Lascia un po' il tempo che trova il campo. Quando sei concentrato su un obiettivo, il campo passa sempre in secondo piano. È chiaro che magari giocare su un altro manto potrebbe venire fuori la nostra tecnica, però ci adattiamo e non è un fattore importante il campo. In testa ci sono Cascina, Massese e Perignano. Casualmente sono tre delle squadre, diciamo, che erano considerate quelle più papabili per la vittoria finale. Chi è che ti fa più paura alla luce del pareggio della Cascina domenica scorsa a Camaiore? Dico la verità, io guardo in casa mia. Scusami se ti interrompo, ho usato la parola paura che è sbagliata. Chi è delle squadre che ho citato che consideri più pericolose? Sono tutte pericolose, perché quelle che sono ripartite sono in testa quelle che si hanno prefissate un obiettivo con la ripartenza. Poi è chiaro che è difficile andare a giocare nei campi, soprattutto in questi campionati, non c'è mai nulla di scontato. Io ti ripeto, guardo in casa mia e noi siamo concentrati sui nostri obiettivi, che è guardare partita dopo partita. La classifica la guarderemo all'ultimo e tireremo le somme. Oggi ti mancava il gemellino, si fa per dire gemellino, però Prete si è comportato bene. Anche Bennati mi sembra è entrato bene. Anche quelli che vengono normalmente confinati in panchina all'inizio della partita, mi sembra che diano sempre il loro contributo. Mi pare che te lo dissi già venerdì, che non avevo dubbi su Alberto, perché è un ragazzo che ti ripeto, si allena a 5.000 all'ora, infatti non avevo dubbi e così è stato. Gli ho fatto i complimenti anche a lui perché non è facile, comunque all'esordio ha fatto una partita da veterano. Infatti gli ho fatto i complimenti, ora rientra anche Rudy che rafforza comunque ulteriormente il nostro pacchetto difensivo. Io penso che oggi ci sia veramente poco da dire e da fare i complimenti ai ragazzi perché veramente abbiamo espresso una partita veramente importante. E poi c'è da aspettare anche Michelotti, che anche lui ha avuto dei problemi di carattere fisico. Insomma, la Massese, oltre a quello che ha mostrato in campo, ha ancora delle carte da giocare fuori. Sì, ma questo è il grande lavoro che ha fatto la società. La società ha preso giocatori importanti che possono stare in un ambiente importante come Massa. Ma questa è la dimostrazione, vedi Alberto che comunque da quando è arrivato non aveva mai giocato, è entrato e ha fatto bene. Ma perché? Perché c'è la testa, la testa giusta e il cammino che vogliamo fare è importante. E quindi se non ci siamo tutti con la testa diventa difficile. Ma questo gruppo qua ha una cosa ben precisa in testa e lo si vede. Domenica prossima ancora una finale, perché tanto ormai l'abbiamo detto, erano nove finali, rimangono nove finali. Sì, un'altra finale che approccieremo con il solito spirito, battagliero. Poi quello che dirà il campo lo vedremo alla fine. Noi abbiamo una settimana di tempo per prepararla, per rimettere a posto un po' gli acciaccati. Io sono il primo e poi, ripeto, sono sicuro che faremo una grande partita anche a Pontegola. Questa società ha fatto l'ennesimo sforzo. Nella giornata di ieri siete stati in ritiro tutti assieme, avete mangiato assieme, avete visitato lo stabilimento Evam ai piani della Ciocca. Siete rimasti la sera a cena assieme e la notte avete dormito assieme. La società sta veramente profondendo uno sforzo in mane per raggiungere il risultato finale. Sì, è la dimostrazione che i giocatori, staff e società remano tutti dalla solita parte. Non mi meraviglio perché ci hanno messo sempre a disposizione tutto per far bene. E questa è l'ennesima dimostrazione da parte della società che vuol fare veramente un campionato importante come lo vogliamo fare noi. Grazie.